Partiamo con questo squaletto piccolino che è uno squalo un po' più grande e quando ho sentito il suono che fa ho detto wow fantastico Ciao ragazzi benvenuti e buongiorno a tutti saluti anche dal mio Zeus eccolo qua che fa la sua comparsa come sempre mi vuole rubare le scena dai Zeus per favore per favore per favore mettiti comodo mettiti da qualche parte io non c'è aiuto c'è allora ragazzi mettiti da qualche parte qua in modo che riusciamo a fare qualcosa insieme ok allora mettiti di qua va bene ecco qua dai Zeus dai per favore ecco bravissimo bravissimo scusate per questa interruzione pubblicitaria allora oggi come potete vedere dal nome qua sotto andremo a scuola di Squishy ok vi farò vedere tutti i miei Squishy non ne ho molti però quelli che ho insomma cercherò di farvi rilassare in qualche maniera ecco insomma partiamo con questo squaletto piccolino e quindi che vi auguro scusatemi vi auguro un buon relax a tutti e quindi Sì. Aspetta se uspini qua, ok? Perfappo! Perfappo! Ecco che è andato ragazzi! Nostro bicho viene sempre a fare una visitina, guapo! Perfappo! 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 Questo simula anche il suono del battito del cuore e adesso ve lo faccio sentire! Perfappo! 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 Sì. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 . Sì, sì, sì. Sì. A presto! ecco lo che arriva sta arrivando Zeus ancora ecco lo che arriva Grazie a tutti. Bene, allora adesso andiamo a prendere questo squishy che è trasparente, ragazzi, guardate la magia di questo squishy, super trasparente. Questo qua che vuoi anche fare un po' di tapping è uno squishy per cani diciamo. L'ho trovato in un negozio di animali e quando ho sentito il suono che fa ho detto wow, fantastico. E allora adesso vi voglio deliziare con questo suono meraviglioso, mi sembra che suona delle patatine. Ciao. 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 adesso abbiamo un altro trigger, un altro squishy super fantastico siete pronti? siete carichi? bene cominciamo le nostre ciambellotte squishy squishyose molto molto belle, tra l'altro hanno anche un profumo buonissimo sembra che abbiano un profumo di biscotto, non lo so comunque sono super super tricchiedose, super 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 tricchiedose sono fantastiche e fanno un suono che è fenomenale fantastiche ecco ora ricco tic 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 eccolo ragazzi è arrivato è arrivato Zeus guarda vai a giocare con lo squalo dai l'interruzione pubblicitaria c'è sempre l'ho mandato a giocare con lo squalo si però non rompermelo mi raccomando non 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 A presto. Sì 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 Sanno un profumo ragazzi Buonissimo Hanno un profumo Sembrano proprio Da mangiare Buonissime C'è veramente Io le mangerei Bene ragazzi Ok Adesso passiamo All'ultimo Squishy Il mio Oddio Scusate Il mio preferito Questo qua È Fantastico È Più rilassante Di tutti Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.